Siamo imbarcati, siamo in procinto di partire per Burano, ci vorrà un'ora e passa di traghetto, speriamo bene. E oggi finalmente visiteremo Burano, una meravigliosa isola nella laguna veneziana. Si trova vicino Torcello ed è nota per i suoi lavori di pizzo e per le case coloratissime. La prodo di Punta Sabbioni. Siamo arrivati, tra poco attracchiamo. Dopo tanti anni rivedo Burano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che è più piccola di così non si può. Che è più piccola di così non si può. Che è più piccola di così non si può. Che è più piccola di così non si può.